Ma dove vai il baffone in bicicletta, così di fretta vedalando da camion? Scegli i limoni, quelli migliori, che ti ha già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con il cappello al vento, col cuor contento e quel tuo baffo incantatore? Cerchi i limoni, quelli più buoni, per dissentare tutti quanti con amica. Ho pedalato in giro per l'Italia per selezionare solo i migliori limoni 100% italiani. E' così che nasce la nuova birra Moretti Radler. Sei tu il migliore, ed il limone fa sì che giallo sia colore del baffone. Ma dove vai baffone in bicicletta? Cogli la tua nuova birra Moretti Radler.